Continua! Uuuuh! Ecco il pezzo! Ciao a tutti i primi! Oh! Vivo! Smalto! Cuore le dita! Un ritino a Francesco! Vaffanculo! Aspetta asciuga le dita! Aspetta asciuga le dita! Asciuga le dita! Asciuga le dita! Un ditino! Due in realtà ce ne vorrebbero! Lo battevo da lontano! Che vergogna! Un altro dito perché ti sei comportato male! No, non ti togliere questo! E uno è Marco! Mi spiace è stato invalidato! Poi! Marco! Marco è lui! Non ti più! Sono d'accordo! Ok, ok! Allora la prima prova è questa! Non ti più!